Oggi lei mi ha mandato un articolo dicendo che è rivoluzionario, che è una cosa che non credeva, che non sperava di vederlo in questa vita. E io ho detto, allora parliamone stasera, anche perché partire fa parte anche di questo. Lei è Adin. Ciao Adin. Buonasera Red, come stai? Sto bene, tu? Tutto bene per te? Tutto bene per voi? Sì? Certo, certo. Allora Adin, per chi non la conoscesse, Adin è una responsabile dedicata da UNESCO ed è il mio interfaccio col Peru, con Machu Picchu, con la biodiversità, con le piante, con tutte queste cose. Tu oggi Adin mi hai mandato un articolo, questo articolo qui, delle Nazioni Unite. Che cosa significa questo articolo Adin? Una grande emozione. Io davvero non speravo di vedere questo accordo in questa vita. Io pensavo che l'umanità non sarebbe stata capace di fare questo passo. E invece, tra le notizie di terza, quarta, quinta categoria, degli quotidiani del mondo, appare anche questa, che invece ha un'importanza davvero epocale. E provo a riassumertela in parole semplici per spiegare un po' il mio entusiasmo e la mia felicità di fronte a questa notizia. Intanto, vabbè, cominciare dicendo che noi siamo terrestri in qualità di primati, no? E siamo animali territoriali, quindi siamo abituati, da quando esistiamo, a pensare i nostri luoghi, i nostri territori con confini tangibili. Non solo gli esseri umani, anche i primati e molti animali hanno questo atteggiamento e questo comportamento nel mondo. Ma se tu guardi bene come funziona il pianeta, ti accorgi che il 70% della superficie del pianeta è acqua. Ossia, la Terra rappresenta solo il 30%, è una parte decisamente inferiore. Quindi, se noi osserviamo il nostro mondo da un punto di vista planetario, non globale, attenzione, planetario, ci rendiamo conto che la Terra gioca un ruolo decisamente inferiore per tutto quello che si riferisce alla difesa della biodiversità. E che qualcuno si sia preoccupato di difendere la biodiversità delle acque, di questa immensa quantità di vita che si muove lontano dai nostri occhi e dalla nostra consapevolezza, è un passo in avanti maggiore. Perché significa che per la prima volta capiamo e siamo d'accordo sul fatto che la difesa della biodiversità cominci dalle acque. Ora, le implicazioni di tutto questo e dell'accordo che è stato raggiunto da una conferenza intergovernativa che essenzialmente per decadi e decadi ha litigato su quali sono gli strumenti che si possono adottare per gestire cosa succede in alto mare, oltre alle acque territoriali. Le implicazioni di tutto questo sono maggiori. Pensa che nel Settecento si consideravano le acque territoriali e ciò che andava oltre la lunghezza di una palla di cannone. Quindi intorno alle tre miglia marine si considerava, avevano misurato così gli olandesi, che questo fosse il limite delle acque su cui ogni nazione avesse una giurisdizione. E poi piano piano queste tre miglia sono diventate il doppio, poi a un certo punto le acque territoriali un po' dappertutto nel pianeta sono diventate diciamo 12 miglia. A queste ne hanno aggiunte altre 12, che è una zona che si chiama Contigua, e poi è partito un dibattito gigante quando sono nate le grandi pescherecci che attraversavano le acque territoriali di molti paesi, letteralmente si facevano la guerra in mancanza di regole, per andare a esercitare attività iper predatorie di pesca, passando da una zona all'altra. Di fatti, Adin, di fatti, Isa dice vorrei che i cinesi non attaccassero i Galapagos con i loro pescherecci, incedendo con escursioni lampie, facendo stragi di animali con le loro mega reti, e l'America non fa nulla. Esatto, perché se ci pensi, quando tu vai oltre queste 24 miglia, che sono le aree continue, chi controlla? Non esistono più regole. Quindi riuscire a creare delle regole, giuste, accettabili e sopportabili per le grandi, piccole e medie nazioni, non era solo indispensabile per andare verso la difesa della biodiversità, ma era indispensabile anche per combattere tutta questa pirateria di cui nessuno parla mai e che invece costituisce uno proprio dei buchi nervi dell'indebolimento della forza della vita che andrebbe ricordato che nasce sempre nell'acqua. C'è questa commissione che si chiama Biodiversity Beyond National Jurisdiction, cioè la biodiversità oltre le giurisdizioni nazionali, che è il tentativo disperato di un gruppo di coraggiosi per trovare regole e difendere tutto quello che succede oltre le 200 miglia, che sono le zone in cui vanno tutti questi pescherecci liberamente e senza nessun controllo. E la notizia straordinaria è che per la prima volta essi hanno riusciti ad arrivare come umanità a un accordo per il trattato delle acque alte, dell'alto mare, High Seas Treaty, ossia il 30% delle acque dell'oceano verranno registrate come aree protette. Il 30% è importante, considera che se il 70% del nostro pianeta è costituito da acqua, il 30% è una bella fetta. Stiamo parlando di un'area quasi della dimensione delle nostre terre emerse. Questo è un passo avanti vero per la difesa della vita e soprattutto per il controllo delle megapiraterie che scorazzano indisturbate con queste macro-reti. Perché non credevo di vederlo in questa vita, Red, questo accordo? Perché farsi delle domande sulla difesa del patrimonio comune nelle acque significa, se ci pensi, essere capace di andare oltre i confini dell'idea di nazione. E' questa narrativa dell'idea di nazione che l'Occidente porta avanti un po' dal 1500 e che ha consolidato in modo fortissimo nel 1800. In realtà che cos'è? Sono delle linee scritte su dei fogli e su dei tavolini, ma il pianeta non è fatto così. E la globalizzazione, purtroppo, non ha promosso un'idea volta a difendere la diversità della totalità del pianeta, ma volta solo ad infondere un unico modello commerciale, economico, sociale, anche ideologico, se vuoi. E quindi riuscire a passare dalla parola globale alla parola planetario è un passo avanti gigante, perché significa comprendere la biodiversità, il rispetto da tutti i punti di vista. E fare questo, a partire dall'acqua, vuol dire che esiste una speranza. non siamo tutti troppo stupidi. Qualche premato riesce a mettersi d'accordo e a capire che esiste una possibilità di difendere la vita. Per questo è così importante. Pensa che la responsabile, la presidente di questa commissione che si chiama Rina Lee, l'ambasciatore di Singapore per gli oceani, quando ha annunciato questa notizia ha detto The ship has reached the shore. E c'è stata una ovazione incredibile di questa commissione che era a decadi che lavorava. E lei, che è una orientale di Singapore, molto timida e compita, aveva un'emozione così grande che si è messa a piangere di fronte a tutti. Non riusciva più a fermarsi. Cosa ha detto? Come ha detto The ship? Lei ha detto The ship has reached the shore. Ha inaugurato la sessione in cui ha annunciato questo accordo storico tra nazioni dicendo la nave ha raggiunto la riva, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a attraversare le acque alte, abbiamo portato a casa un accordo che vale per tutta l'umanità e soprattutto per tutta la biodiversità marina, senza la quale non abbiamo neanche quella terrestre. Ecco perché è così importante. Senti, stanno scrivendo, dopo continui, bisogna adesso rimuovere dal mare gli oceani di plastica. Vedi Speranza in questo fondo? Poi Gianni Bersanetti, il mare è diventato una discarica. Toglieranno l'isola di plastica dalle Bahamas? Questo è un altro problema. Finalmente abbiamo un accordo sulle acque alte. abbiamo incontrato adesso l'altezza del ruolo di responsabilità che l'essere umano ha su questo pianeta blu. Allora, siamo tutti ospiti del pianeta che appartiene al creato, non all'uomo. Peccato che bisognerà attendere il 2030, ci arriveremo alla concretizzazione e quindi la plastica. Cos'è questa assurdità umana? Hanno eliminato, tu pensa, dì che io nel mio paese c'erano tante fabbriche di canapa. La canapa era qualcosa di strepitoso. L'hanno tolta per far posto alla plastica. Ecco, perché anche questa insensatezza di continuare a produrre plastica? Beh, perché finché tu consideri il pianeta come un insieme di risorse inesauribili e immagini lo sviluppo dell'umanità non come un sistema interdipendente, ma come un'espressione di supremazia, allora tu utilizzi tutte le risorse che vuoi, pensi alla tua espansione come a una semiretta infinita e non ti importa. Ti circondi delle soluzioni più facili e più veloci e quindi produci anche sostanze che non entrino in un circolo di rigenerazione. Questo è stata l'affermazione della plastica. L'incapacità di rendersi conto che la natura ha una struttura circolare e che tutto ha bisogno di ritornare a essere riutilizzabile. Questa è l'interdipendenza delle reti biotiche terrestri e marine, ma l'industrializzazione occidentale non è stata capace di capirlo. La plastica era più veloce, più comoda, facilmente utilizzabile, tanto per i termoindurenti come per i termoplastici e quindi piano piano è avanzata e ha conquistato tutto. I vestiti che utilizziamo, addirittura i cosmetici. Le sostanze sintetiche sono letteralmente dappertutto. Non è che io sia contro le sostanze sintetiche in quanto tali. Io penso che questa iperabbondanza eccessiva, produttiva, che si sostituisce a cose che si potrebbero fare benissimo di materiali naturali, ha prodotto un danno per cui i nostri figli, nipoti e nipoti saranno costretti a fare uno sforzo gigante per renderlo iriassorbibile. Certo, ci sono funghi in grado di disintegrare le plastiche, ma è un lavoro gigante, è come Davide contro Golia. Certo, allora guarda, a parte che hai tantissimi, Tonello Brunetti da Londra, bellissimo intervento, hai tantissima gente che dice grazie di avermi fatto, che bella persona a Dean, grazie di avermi fatto conoscere a Dean, eccetera, eccetera. C'è uno che dice, Isa dice, i veri produttori di canna, per gli italiani, gli USA e i petrolieri ci hanno tolto tutto con la scusa della cannabis. Adesso il Canada produce business, quindi questo è. Quindi, grazie per queste parole, mi sento meno isoscile, forse isoscile, scusate, l'italiano, questo è qualcuno che il pianeta avrà la sua vendetta contro la vendità umana. Non si tratta di vendetta, si tratta di vivere, di sopravvivere a tutto quello che ha fatto l'uomo. La Terra si ribellerà, quindi mi stanno scrivendo. È vero, i nostri figli lasciamo un casino pieno di speranza. il nostro prossimo affare è ritornare indietro. Adin, tu sei sempre stata per la biodiversità, ti occupi di cose incredibili, con l'UNESCO abbiamo, adesso vedremo anche un'intervista che ti ho fatto sulla festa dell'agua, guarda caso, la festa dell'agua. Quando tu mi manderai la musica io riuscirò a montarla. Siamo molto vicini, sai. Va bene, va bene. un po' di pazienza ci arriviamo. Comunque, Adin, e niente, tu hai una strana, uno strano entusiasmo, perché raramente io trovo persone entusiaste come te, tant'è vero che hanno uno strano entusiasmo per le radici del passato, per imparare dal passato. Sembra quasi che tu voglia imparare dal passato. E beh, ma noi siamo fatti di passato, no? Che cos'è il DNA? che cos'è il DNA? È la storia del nostro passato. Dentro il DNA è il linguaggio che racconta cosa siamo stati e quindi cosa siamo in grado di diventare. E questo vale anche per la storia dei popoli e la storia dei monumenti. Perché noi costruiamo musei? Perché noi creiamo collezioni e narrative del nostro passato? Perché più profonda è quella consapevolezza, è quella comprensione, più grande sarà la nostra capacità di guardare in avanti. La tua comprensione di ciò che ti attende è esattamente proporzionale alla profondità del tuo sguardo nel passato. Chi non ha un passato non ha un futuro. Pensa a chi ha un'amnesia. Le persone che non hanno un'amnesia non riescono a mantenere un'identità, non sono in grado di muoversi nel mondo. E poi c'è anche il discorso che più profonde sono le radici di un albero più questo albero non può essere abbattuto dal vento e dalle intemperie. Quindi questo... Esattamente. Gli agli rovo sono chiamati i giganti, sono proprio chiamati i giganti della resilienza perché loro hanno una radice che arriva fino a 70 metri sotto terra e avendo una radice che arriva fino a 70 metri loro sopportano 7-8 anni senza una goccia di pioggia. Ce la fanno. Non è incredibile? Il loro legno è così duro è così duro grazie a questa forza pazzesca che hanno che quando tu lo bruci riesci a raggiungere temperature elevatissime ed è grazie a questo che il popolo moce è riuscito a inventare la metallurgia. Se non ci fosse stato questo albero geniale con radici che vanno profonde fino a 70 metri nella terra non sarebbero nati gli ori del Perù pre-espanico? Pensa un po'. Pensa che a Tenerife Arianna Mendo è un piacere perché tu conoscessi che va a studiare tutti questi luoghi energetici e mi ha raccontato che gli alberi sviluppano gli alberi che sono nati in questo luogo dove inevitabilmente c'erano i vulcani quindi hanno sviluppato un modo di trasformare la resina che mettono fuori in qualcosa che resiste al fuoco quindi resistono a sette incendi senza bruciare pazzesco. Eh sì ma se tu ci pensi come come anche considera molta parte delle società amazzoniche le piante che sono i nostri antenati hanno conquistato il mondo e lo hanno reso bello loro sono molte di più di noi e sono dappertutto e il loro modo di conquistare non è stato un modo in cui una sola specie come la nostra oppure un solo metodo propone è un unico modello che chiama globalizzato e distrugge ogni diversità al contrario le piante hanno creato reti biotiche si sono adattate a ogni geomorfologia a ogni clima e hanno costruito una vitalità incredibile favorendo e migliorando anche i cicli dell'acqua e loro hanno fatto tutto questo per rendere il pianeta bello è bellissimo questo messaggio di Villis che scrive io amo questa donna la vorrei come vicina di casa meraviglia eccetera eccetera è un sacco di complimenti Adin io ti ringrazio vedi che non volevo sapere niente perché sapevo che me lo raccontavi bellissimo perché lei dice vuoi che ti racconti no? me lo dici dopo e quindi e quindi così mamma mia c'è un po' di c'è sei sei fantastica Adin continua così perché se tutto il mondo fosse fatto di persone come te non ci sarebbe il disastro che c'è ok? è certo ma la bellezza cambia il mondo una persona alla volta come dice Renzo Piano e quindi basta fare un piccolo sforzo e riusciamo tutti noi ad apprezzare la bellezza che le piante e il resto del mondo ci insegnano pensa che il titolo di questa sera è sveglia è ora di partire perché 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 Adin non è ripartire perché questo periodo storico noi non l'abbiamo mai vissuto non è nel nostro DNA è qualcosa di completamente diverso è qualcosa di completamente strano e quindi noi non abbiamo una sensazione di partenza da ripetere possiamo solo partire dobbiamo inventarci una strada nuova in mezzo a tutte queste cose che si inventano per questi trappoli queste queste paure che si inventano eccetera dobbiamo andare per un cammino nuovo sì però se tu guardi quando Alessandro Banzoni ha raccontato della fine della peste che ha colpito la zona la geografia di cui lui ha parlato l'umanità che lui ha descritto non era un'umanità solamente stremata dalla distruzione del proprio dei propri beni delle proprie case era un'umanità che aveva ancora voglia di ripartire c'è questa abilità dell'essere umano di riprendersi di riprovare di andare avanti di rinascere da se stesso che è un principio importantissimo su cui vale la pena soffermarsi un momento non è vero che le distruzioni lasciano solo un appiattimento anzi questo non vuol dire che siano positive ovviamente vuol dire che quello che succede dopo un processo distruttivo è sempre molto vitale dopo un fuoco dopo una peste dopo c'è un processo di rinascita inerente alla struttura della vita c'è una domanda bella come l'hai rintracciata nel mondo allora io a Dean io a Dean sono allora voi dovete sapere che io credo moltissimo nelle coincidenze c'è addirittura uno che ha usato un termine molto bello che le chiama dioincidenze cioè che qualcuno da sopra ti mette in contatto eccetera quindi a Dean è tutt'altro che tecnologica però quella sera doveva preparare una relazione importante è entrata in Clebaus e quindi in Clebaus ho sentito parlare questa ragazza diceva delle cose che mi piacevano un casino e da lì siamo entrati in contatto e abbiamo continuato il nostro rapporto e quindi e quindi insomma però ci hanno messo in contatto qualcuno ha fatto in modo perché lei credo fosse l'unica volta che entrava dentro Clebaus gli aveva suggerito credo sua figlia non mi ricordo più e quindi credo l'unica volta forse due e poi basta non sono più stata neanche capace non ho neanche più credo l'app a Dean una dea no non è una dea è una terrestre molto radicata nel rispetto del pianeta e della biodiversità e quindi grazie a Dean ciao bambina grazie a te buonissima conferenza e ci vediamo presto e vorrei anche ringraziarti per la tua incredibile pazienza nell'attendere i pezzettini che mancano delle cose che è il mio compito inviarti io ho questa ammirazione per la tua eccezionale pazienza e cerco sempre di arrivare in fondo ma ci vedremo presto ci vediamo entro aprile sicuramente e parleremo di Ciapparicchi sì anche Ciapparicchi non so cos'è non dirmi niente adesso sì anche perché credo che tu venga con un fotografo Plenge che è un fotografo strepitoso esatto io amando la fotografia non posso la bellezza è negli occhi e guarda gli occhi sono alla fine dell'anima sì di fatti lei è fantastica allora ciao a Dean buonasera grazie di essere stata con lei buonasera un bacio ciao 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 che bella Dean eh eh ragazzi con persone come a Dean vuoi che l'umanità non riparta sì noi dobbiamo partire ragazzi partire